Altro interessante momento oggi, 22 maggio 2012, martedì all'Istituto Codignola di Crotone con tutte le classi della scuola primaria, alcuni della scuola di infanzia che partecipano alla messa per Santa Rita. Una chiesa, tra l'altro oggi è appunto Santa Rita, tra l'altro la chiesa di Santa Rita, la chiesa di Santa Rita qui a Crotone è proprio a neanche 100 metri dalla scuola quindi si possono tranquillamente recarci vicisi a piedi. Tenetevi il cappellino! Passata la strada siamo già sul corso Matteotti dove a poche decine di metri dall'Istituto Codignola si trova alla chiesa appunto di Santa Rita. Un bel appuntamento a 9 giugno, non ce n'è, c'entra poco con Santa Rita ma le deformazioni, le solite i soliti ritardatari, dai dai! C'è un po' di festa qui a Crotone, una bancarella rimasta dalla festa forse della Madonna di Capocolonna che di fatto si è conclusa la domenica, tutto il mese di maggio è dedicato bene o male a qualche iniziativa. e siamo entrati in chiesa il nostro amore in ogni parte in questa vita a te sia stato il nostro amore in ogni parte in questa vita a te sia stato il nostro amore e felicità in ogni parte in questa vita a te sia stato il nostro amore in ogni parte in questa vita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.